Sì, sì. Quando ho visto Matteo e gli altri scalare, mi è rimasto così impressionato. Può essere che arrivano i nuovi concorrenti, noi finora di B1, sono sempre stati noi, io, i russi, che erano due, e i giapponesi che ne avevano più cinque, sei, perché i numeri che ci sono adesso sono tanti. E come fanno queste ragazze a arrampicare, che non vedono? Come vai? Certo è un po' strano, è un po' strano. È un po' difficile da spiegare perché bisognerebbe trovarci. La righi? È folle come idea altrimenti. No, non è assolutamente folle. Diciamo che, insomma, considera... Quando sei su, c'è tutta la tristina, la corda fa tutto quello su tutto l'angolo, l'incorrispondenza del traverso, e quando arrivi su considera che la corda è veramente dura, 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 dura. Vai, resisti, resisti, resisti! Sono gigantissima. Conchuliesco. Conchuliesco. Conchuliesco.